Il premio Mariangela Melato per la migliore attrice protagonista è andato a Lucia Sardo per il film sulla giostra di Giorgia Cecere. Ada, il caffè l'hai fatto? Sì, ora lo faccio. Erano molti anni che abitava lì. Irene, ci sono dei problemi con Ada. Perché questa signora non se ne vuole andare. Noi non possiamo comprare se la casa è abitata. Cioè la governante che tiene in ordine ma non abita qua. Se ne avevi nessuna idea per sistemare Ada. Per un lavoro pulito sono 100.000 euro. faccio sparire anche il corpo. Guarda che si capisce. Che sei sola. E da che si capisce? Non fare come me. Che quando mi volevo non li scartavo tutti. Voleva sempre in giro vestito così la sera? Sì, una specie di smoking. Filippo, ma che ci fai qua? Ma che è venuto per far l'arrabbiere? Non ho bisogno di una reggia. Che se restassi. Che sono queste lettere? Pantarei. Significa tutto passa. Io se mi faccio un tatuaggio ci scrivo niente passa.